Una sconfitta arrivata dopo una partita che avete cercato di controllare nel primo tempo e poi avete cercato anche di riprendere dopo il gol subito su rigore. Qual è la sua visione di questa gara? Una volta è stata una gara di equilibrio dove l'episodio ha spezzato quell'equilibrio. Chi vince ha ragione e noi sapevamo che non avevamo risolto tutti i nostri problemi. Sicuramente ce ne abbiamo tanti di problemi che dobbiamo cercare di risolvere. Oggi è una partita che doveva dare continuità alla partita di domenica scorsa contro la Sangataldese. e francamente sotto l'aspetto dell'atteggiamento sicuramente abbiamo fatto qualche passo indietro e quindi dobbiamo un po' rivedere quelle che sono state delle situazioni che abbiamo fatto in settimana e quindi dobbiamo cercare di riprenderci perché domenica abbiamo una partita in casa importante ma non è importante perché arriva la squadra che ospitiamo, che è la Scafatese, ma è importante perché sicuramente abbiamo una classifica deficitaria e dobbiamo cercare di rimetterci in linea con quelli che sono il nostro obiettivo che è quello di salvarci. Avete preparato la partita con un atteggiamento all'inizio, sembravate più spavaldi, poi vi siete un po' chiusi nella seconda parte del primo tempo. Era questa la partita che avevate preparato? Ho preparato una partita in funzione delle nostre caratteristiche e delle caratteristiche dell'Igea Virtus. Devo dire che la partita secondo me poteva durare fino a domani, se non c'era quell'episodio del rigore, secondo me molto, ma molto dubbio, dove l'abitro è stato molto magnanime, però se l'abitro l'ha fischiato vuol dire che ha ritenuto giusto dare il calcio di rigore, magari lo rivedrò e magari mi cambierò idea, ma io ero a pochi metri e mi è sembrato uno spalla a spalla che anche Calafiore mi ha detto che il calcio di rigore non esiste, però alla fine chi vince ha ragione. Hai avuto un'occasione importante dopo 1-0, peccato perché poteva essere davvero anche lì l'occasione per cambiare il finale di questa gara. Sì, abbiamo avuto una palla con Rechichi che non l'abbiamo sfruttato bene, ma devo dire che all'inizio del primo tempo abbiamo creato qualche situazione che se i miei giocatori magari invece di entrare in porta con la palla avessero tirato, possibilmente c'è il portiere che para, attenzione, però possibilmente il tiro della domenica e facciamo gol, cosa che non è successa. Grazie a te.